Sì, sì, adesso vi aiuto. Ma prima che mi si scarichi la batteria, facciamoci una foto che devo aggiornare il mio Instagram, dai! Sara, stai scherzando, vero? Dobbiamo sistemare la tenda prima che piova. Sì, e poi non siamo qui per fare selfie, siamo qui per stare insieme. Oh, madonna, che noiose. Ciao amici, come state? Vi stavate chiedendo dove fossi finita, vero? Beh, sorpresina, campeggio! Sara, la finisci? Dobbiamo sistemare la tenda, dacci una mano! Vabbè ragazzi, non sono sempre così noiose. Ma questo cos'è? Ragazzi, mi fate luce? Ragazzi, passatevi una pila che devo capire che cosa... Ragazzi! Ragazzi! Sì, Claudia! Ok, lo so che vi siete nascoste, dove siete? Ragazzi! Ok ragazzi, non è divertente! Ragazzi! 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 Grazie a tutti.